Ciao ragazzi, allora benvenuti a questo nuovo podcast, siamo qui con Dario e Lorenzo Ciao a tutti, io sono Dario Moccia, ciao io sono Dario Moccia, io sono Lorenzo Iello e io sono Matteo Bruno Sì ma di te ci importa la sega E siamo venuti qui a trovare Matteo perché la nostra mi prende per il culo perché ti giuro ti inculo Hai una tosse di merda Dario, lo so, lo so No ragazzi allora vi facciamo questo vlog appunto perché i fan non capiscono mai cosa c'è behind, behind Cane Seco ovvero Matteo Bruno e quindi noi diciamo abbiamo fatto questo vlog per svelarvi cosa c'è dietro Cane Seco dietro le quinte di Matteo Bruno Matteo Bruno nasce a Catanissetta e da una famiglia borghese, raccontaci la tua storia su questa conchiglia Beh dunque me l'hanno regalata a confini ortopedici Diciamo serve per l'attività anale e questi diciamo questi spunzoni servono a penetrare maggiormente diciamo l'orefizio prescelto e grazie a queste piccole puntine c'è la possibilità di una stimolazione maggiore diciamo della parete uretrale Ehm... Cosa c'è Mattia? 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 No! 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 Deveva uccidere! Ma lo ma no! No! Deveva uccidere! Ah! È andato a uscire! Eh questo è il lato oscuro di Matteo Bruno vedete quando non prendo le pasticche purtroppo l'ira lo avvolge Allora Matteo qual'è? Ah! Capoglione! Matteo! 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 No! 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 Hai visto il pano? Non ce lo faccio più! Devi fargli il movimenti della bicicletta che a lui gli da noia Matteo qual'è il tuo registro? Che rottura di coglioni però non è possibile Non è possibile No! Te ne comando il culo no! Allora Matteo Termosifone! Si diceva qual'è il tuo regista preferito? No! Non è possibile Lorenzo non è veramente possibile Cioè questo io mi sta ruotando nel viso e ti sto parlando Pazzanella No! Dai! Maremma merda! No! No Lorenzo! No! Lorenzo ti ci mettono anche te! Lorenzo ti prego Questa casa è maledetta No! No! Questa casa è maledetta Ti prego non è maledetta Lorenzo per favore non ci metti anche te Come vedete Matteo Bruno è una persona tranquillissima No! Si stanno tutti bene No! Si stanno tutti bene No Matteo te lo scongiuro ti prego No! No! Matteo Bruno nasce a Caltanisetta lo ripetiamo nel lontano 1990 e già nel 1992 si accresce la sua passione nel costruire tappeti No! Che... no! Che pazzo! No! 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 Non si fai la questa... No! No! Vai qua la domanda! No! No! enden